Allora, non si possono concentrare tutti nei comuni capoluogo come sta avvenendo, così come i minori stranieri non accompagnati. C'è bisogno che a questo punto anche alcuni sindaci, che peraltro sono del PD, che sventolano tanto la bandiera dell'accoglienza e della solidarietà, non ne hanno neanche uno in carico. Sapete perché? Perché costa averli in carico. Costa anche le casse comunali. Io spendo 3 milioni di euro all'anno alle casse comunali, per un comune come il nostro. Vuol dire cannibalizzare i servizi sociali sui minori stranieri non accompagnati. I 500 euro sulla finanziaria? Sono un passo avanti su questo. Ma quali 500 euro sulla finanziaria? Ma vengono qua a farci le elemosine. Ma quali 500 euro? Non è l'elemosina, se costano... 3 milioni di euro. Allora, se io prendessi quei 500 euro lì, che è una vera e propria elemosina, io prenderei circa 200 mila euro, 250 mila euro all'anno, ok? Io ne spendo 4 o 5 tra una cosa e l'altra. Troppi pochi. Quindi per cortesia. Troppi pochi.